La prima giornata dell'attività di tracciamento delle grotte che sono state provate. Registrano con continuità i valori di temperatura. Ogni sorgente iniziamo a misurare la temperatura. Di varie discipline, dalla geologia all'idrogeologia alla microbiologia, per cercare di capire i segreti di queste grotte. Si aprono proprio a libro, hanno una stratigrafia molto chiara. Questa montagna, la gatta morgana, verifica di dove questo tracciante esce. Ho venuto con le mie piante e non con l'ossido di manganese, che è rimasto inizio.